eccoci qua ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti tv prosegue la nostra tv week tematica intelligenza artificiale e 5g noi siamo in compagnia di nino guarnaci principal solution engineer salesforce italia buon pomeriggio di nuovo e ben ritornato di nuovo allora vorrei fare un velocissimo riassunto di ciò che si è detto ecco nella tavola rotonda precedente dove abbiamo parlato di accessibilità la tecnologia e del modello di business che può abilitarla nella teoria sembra tutto piuttosto semplice ma sul piano della realtà e concentrandosi sull'ambito della customer engagement e in cui salesforce opera quali sono dei casi d'uso concreti che rendono possibile una messa a terra immediata di intelligenza artificiale e analisi dei dati allora alessandra grazie della domanda e proverò a diciamo a calarla un po per terra no a scaricare a massa quello che abbiamo detto finora nel panel precedente allora l'intelligenza artificiale più altri pochi ingredienti combinati insieme fanno una ricetta come una ricetta qualsiasi che prepariamo nella nostra cucina la problema o l'opportunità è che molte aziende hanno bisogno più di una ricetta no dipende da quanti processi di business hanno all'interno organizzati adesso se noi proviamo a muoverci su dei macro processi di business in generale ad esempio marketing sales per la parte vendite la parte di customer care cioè di supporto al cliente e la parte per esempio di commerce proviamo a identificare dove l'intelligenza artificiale l'analisi sui dati cioè l'estrazione del sapere dalla conoscenza possono portare un vantaggio più allora ad esempio per quelle aziende che fanno del marketing uno degli strumenti abilitanti per i loro mercati per diciamo per vincere anche in termini di competitività di competitività sicuramente la capacità di poter fare quelle che noi in gergo tecnico chiamiamo audience ma non sono altro che insiemi di popolazione di persone che vengono classificate che vengono identificate in base ai comportamenti in base ai gusti in maniera da poterli raggiungere con delle offerte sempre più puntuali questo stand attenti però a raggiungerli nel momento più giusto ovvero l'intelligenza artificiale è in grado di sapere quando una persona è più propensa ad aprire un email quindi inutile mandarli la mail la mattina che magari questa persona ha da fare gli strumenti di intelligenza artificiale normalmente ragionano anche per l'invio della mail ad esempio della push notification ad un orario ben preciso perché sappiamo di cogliere quella particolare utente nel suo miglior momento della giornata per starci per darci retta e soprattutto dobbiamo stare anche attenti a non ucciderlo di comunicazioni ma mandargli la frequenza delle comunicazioni che è in linea con quanto lui più o meno più o meno si aspetta quindi anche qui l'intelligenza artificiale ci dà una mano ci dà una mano anche a veicolare nell'ambito del marketing quali possono essere dei contenuti di suo interesse quindi a utilizzare dei termini che sono più vicini al suo diciamo al suo modo di vivere i prodotti che la nostra azienda propone spostandoci leggermente sulla parte delle vendite ad esempio è molto importante immaginare quanto tempo si perde a cercare di trasformare un possibile prospect cioè una persona che potrebbe avere una propensione all'acquisto in una vera una vera vendita no cioè in un'opportunità reale ecco anche qui gli strumenti di intelligenza artificiale ci aiutano ad esempio lead scoring è un termine che si usa per identificare una tecnologia di intelligenza artificiale applicata a un'analisi profonda dell'esperienza quindi se io volessi capire sulla base dell'esperienza dei miei tratti aziendali quanti di quelli che intenzionalmente che inizialmente avevano intenzione di acquisto poi dopo sono stati convertiti realmente in un acquisto e sono in grado di applicarli sopra un algoritmo di intelligenza artificiale per fare questa conversione questo permette alla mia organizzazione aziendale di concentrarsi solo e principalmente su quelle iniziative che maggiormente hanno possibilità di essere convertite in una in una vendita così come la possibilità di poter accedere a delle fonti e poter garantire quindi che alla persona che fa magari il venditore per la mia azienda gli vengano consentiti consigliate delle azioni precise da poter fare per migliorare la conversione da una semplice opportunità a una vendita finale così come ad esempio l'intelligenza artificiale sempre nell'ambito delle vendite diventa perforante quando si va a fare una next best offer cioè si va a cogliere dal paniere dei prodotti che abbiamo in azienda da offrire quello che è più vicino ai gusti di quel cliente quindi il venditore sarà in grado di andare a fare un'offerta molto più puntuale rispetto alle sue alle sue esigenze e poi se lo dovessi guardare in maniera anche un pochino più ampia a livello di Forecast sapete molte aziende si stanno cominciando a organizzare sempre più in maniera in maniera strutturata quindi ci si può organizzare per fare un'analisi dell'andamento dei cavi magari con cadenze trimestrali ecco nell'analisi dei Forecast l'intelligenza artificiale ci permette di andare di aiutarci a fare delle piccole correzioni durante l'anno per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prestati magari per quell'anno per quell'anno solare per quell'anno fiscale nell'ambito per esempio dell'e commerce è molto importante l'intelligenza artificiale ci dà la possibilità di poter raccomandare suggerire addirittura organizzare i risultati che compaiono sul sito in base ai gusti delle persone sempre più importante l'intelligenza artificiale è diventata pervasiva anche nel mondo del customer care un tema molto particolare perché il customer care è il punto più intimo più delicato che c'è tra un'azienda e i suoi clienti e nel momento in cui il cliente ha bisogno di quell'azienda il momento in cui il cliente che si è affidato originalmente all'acquisto da quell'azienda adesso va a vedere se effettivamente la scelta che ha fatto è quella nel mondo del customer care l'intelligenza artificiale agisce principalmente sulla customer satisfaction cioè rendere sempre più soddisfatti i clienti di quell'azienda e nella poter ridurre il numero di casi quindi la case deflection ora chiamiamo così nel ridurre il numero di casi che i clienti aprono nei confronti di quell'azienda perché significa che stiamo offrendo degli strumenti magari in self service sempre più utili in questo caso l'intelligenza artificiale ci viene in aiuto ad esempio con quella che noi chiamiamo case classification cioè riuscire a classificare le richieste in maniera preventiva così da assegnare alla persona più giusta in tempo reale così che la possa diciamo con rapidità lavorare e chiudere quindi che il cliente sarà più contento ad esempio c'è la parte di raccomandazione sulla base della knowledge base quindi io ho aperto questa richiesta dal customer care oppure ho telefonato al customer care e in tempo reale vengono suggeriti degli articoli dalla mia parte diciamo di FAQ di question and answer sulla mia sulla mia documentazione quelle che mi aiutano in maniera più veloce a risolvere il problema oppure ad esempio quelle che possono essere delle azioni correttive immediate next best action e cioè l'operatore che in quel momento al telefono sta rispondendo in chat o sta rispondendo su una qualsiasi piattaforma di messaggistica quindi in un'ottica di omnicanalità in quel momento lui dal sistema di intelligenza artificiale gli viene suggerita qual è l'azione più indicata per aiutare il suo cliente a risolvere il prima possibile il problema tutto questo in maniera trasversale anche attraverso l'utilizzo dei bot quindi i bot che stanno diventando sempre più pervasivi sono diciamo un'espressione dell'intelligenza artificiale calata all'interno dei vari contesti dei vari processi di un'azienda che sono in grado di rispondere in maniera real al time a un cliente facendo leva su quelle tecnologie che ti ho accennato spero di non essere stato troppo lungo ho cercato di darti un po un quadro generale sui vari vari processi diciamo allora magari proviamo a concentrarci su un caso specifico e come dire vederlo in opera giusto all'opera scusate giusto per rendere tutto un po più chiaro a per chi ci segue in questo momento sì allora proviamo a immaginare il caso di carolina mi sono prepara mi sono fatto trovare pronto no il caso di carolina carolina è la responsabile del customer care accede alla sua console del customer care in cui gli agenti giornalmente lavorano per cercare di dare risposta alle varie richieste carolina lavora per un'azienda delle utiliti e in questo momento questa azienda ha una media di customer satisfaction da parte dei suoi clienti di 79 punti che cos'è che guida la customer satisfaction all'interno di questa azienda delle utiliti vedete attraverso l'accesso ai dati l'analisi dei dati carolina con semplicità riesce a capire quali sono quei fattori che rendono i suoi clienti più contenti cioè clienti meno contenti sulla base che ne sono dei prodotti che hanno acquistato dei problemi che hanno avuto del tipo di canale che hanno utilizzato per raggiungersi e quindi riuscire a fare anche una segmentazione di questi e capire su quale canale ad esempio siamo più performanti magari al via telefono siamo più performanti via email meno performanti oppure su quali prodotti in offerta siamo più performanti da un da un punto di vista di customer satisfaction quindi di tempi di risoluzione del caso di soddisfazione del cliente nel lavorare il caso adesso che sappiamo più o meno quali sono i driver che ci guidano proviamo ad andare a vedere quali sono i casi che in questo momento sono un po' più po più caldi non quelli che magari i clienti sono in attesa da un po troppo tempo magari sono clienti già fidelizzati sono clienti importanti atto spendente di centro per la nostra azienda e quindi mi concentro sui casi carolina il suo compito è quello di aiutare i suoi agenti quelli che lavorano per lei quindi decide di concentrarsi su quei casi che in questo momento richiedono di più la sua attenzione quelli quelli più alti e capia quello chiamoli come come diciamo come maggiore attenzione e quelli sul quale siamo attualmente stiamo lavorando siamo in uno stato di working chiamiamolo così adesso come potete vedere compare in automatico la lista di quei casi che rientrano all'interno di quel filtro ne seleziono uno quello magari che richiede maggiormente la mia attenzione e accedo direttamente a questo caso eccomi qua sono di fronte all'esigenza che ha questo cliente in questo momento sto vedendo che cosa accade come mai questa richiesta è ferma lì da molto tempo vado a vedere in che stato si trova e come potete vedere sono state violate un po tutte le promesse che avevamo fatto cioè violate nel senso che non siamo stati non siamo stati in grado di rispondere ai tempi e in questo momento la customer satisfaction di questo cliente prevista predicted è molto bassa tra l'altro questo cliente ha aperto con noi già altri 11 casi quindi è un cliente che già acquista da noi è un cliente già fidelizzato se ci concentriamo un attimo sulla parte dell'intelligenza artificiale vedete ci sta dicendo non solo quali sono i fattori che stanno determinando questo basso diciamo questo basso rendimento ma anche quali potrebbero essere delle azioni correttive per aiutare a tirare su la customer satisfaction quindi decidiamo di offrirgli un voucher un voucher di sconto per il prossimo acquisto vedete la customer satisfaction in questo momento fa un balco è una predicted quindi è sulla base dei dati storici l'algoritmo ci sta dicendo quali sono le azioni in questo caso vedete anche nella parte di next best action ci sta suggerendo quali azioni risolutive o pseudo risolutive potremmo fare per poter portare a termine questo case carolina conclude la giornata o conclude la lavorazione questo case richiamando il suo collega che ha in carico questo case chiedendogli di accelerare il processo di risoluzione come potete vedere in tre minuti più o meno tre minuti e mezzo abbiamo portato a casa uno use case davvero completo nell'ambito della customer del customer care ma non necessariamente nel mercato delle utility in uno dei vari mercati alessandra ci sei assolutamente sì ecco è stata una dimostrazione molto interessante io la ringrazio nino guarnaci principal solution engineer salesforce italia grazie mille per questa dimostrazione grazie a te e un saluto a tutti gli aspettatori grazie allora noi ci prendiamo una brevissima pausa obbligitaria però rimanete con noi perché dopo la pubblicità ci raggiunge ovviamente stefano gatti hera vedeva anna lite ex nexi ciao Grazie a tutti.